Annota a Torino un passo avanti nell'atteggiamento dei tifosi. In questo clima distensivo, Torino e Sampdoria si adeguano e si affrontano in supplesse per 45 minuti. Pochi sussulti. Al secondo, Pellegrini sgomita Schackner che finisce a terra nell'area bruciarchiata. Casarin fa proseguire il gioco. Ventiduesimo, Pellegrini, incerta la sua presenza alla vigilia, non regge e chiede il cambio a Bianco. Ventisettesimo, Serena e invocato a gran voce dei tifosi Granata perché non travisca la causa ma non dipende soltanto da lui, si fa vedere con questo despero che brucia le mani al bravo Bordon. Trentaquattresimo, risponde la Samp con Sanes che imposta e conclude. Martina è bravo a rispondere e riprende Mancini e la difesa Granata fa muro. Trentottesimo, Schody, Serena e Bordon, dieci elode per entrambi. Niente di meglio nella ripresa, Bersellini dopo nove minuti toglie Vialli e inserisce Francis. Al ventesimo, Radice risponde inserendo Comi e Pietro Mariani al posto di Schachner e Caso. Al venticinquesimo, Mariani si presenta sciupando a lato una buona occasione per la squadra Granata. Al trentonavesimo, c'è una mischia nell'area della Sampdoria che si salva con qualche affanno. Termina così sullo 0-0 una partita nella quale il Torino, forse, senza Junior, Dossena, Zaccarelli e Pileggi, non poteva fare meglio e alla quale la Sampdoria, forse, non chiedeva di più. Grazie.